Sarà un Natale all'insegna del cuore, come ci spiegherà la nostra designer e grafica Laura D'Amico, vedono tante iniziative, in particolar modo due eventi più importanti di questa rassegna natalizia si inizia il 16 dicembre con la Petite Messe Solenne di Rossini, che sarà interpretata dal Coro Lirico di San Termete e poi il 20 dicembre al Cinemastra un bellissimo spettacolo di Enrico Loverso, che è un attore cinematografico e teatrale di fama nazionale, che interpreterà Uno Nessuno Centomila di Pirandello. Concludo ringraziando un po' tutti quelli che sono gli sponsor che hanno aiutato, che aiutano questa campagna di festività. In particolar modo i nostri due main sponsor sono il gruppo SGR e Riviera Banca, a cui sono aggiunti anche gli importanti contributi di Meteosat, Pizzagalli Infissi, Ghibol di Marco Boghi, Leonardo SRL e Bastianelli Enrico. Quest'anno siamo veramente contenti, pieni di gioia di poter tornare nelle piazze, nelle strade, a fare quello che abbiamo sempre fatto, ovvero organizzare iniziative e eventi di intrattenimento per tutti i nostri ospiti. Ci sono diverse iniziative che si svolgeranno durante tutti i fine settimana, quindi cominciamo dal primo fine settimana, dal 4 al 5, dove ci saranno dei mercatini natalizi, accompagnati anche da un mercatino solidale. In questa occasione, in particolare, il 4 è prevista l'inaugurazione con l'accensione delle luminarie. Ci sarà un concerto della Gabice Glamour Orchestra, che è la nostra orchestra di giovani, riconosciuta anche a livello di consiglio comunale, proprio battezzata è la nostra orchestra del territorio, che accompagnerà quindi l'inaugurazione. Poi seguiranno tantissimi eventi, lotto, ci sarà l'iniziativa Babbo Natale viene dal mare, quindi Babbo Natale, Gabice, arriva su una barca, arriverà direttamente dal mare e si fermerà al nostro centro per le famiglie, dove raccoglierà tutte le lettere dei bambini, lettere che il pomeriggio del 5 potranno essere costruite insieme a un'associazione di Gabice Mare, che si è messa a disposizione corporeamente per aiutare i bambini a fare la loro letterina, andando quindi via via durante tutto il fine settimana, accompagnando quindi tutti i weekend con delle attività che coinvolgeranno Piazza Municipio, Piazza Matteotti, il cuore del paese, oltre alla Piazza Valbruna di Gabice Monte, dove andremo ad attendere il 26 di dicembre, il 6 gennaio il presepe vivente, l'arrivo della Befana il 6 gennaio, insomma tutti questi appuntamenti. Il cuore in realtà rappresenta l'amore che c'è non solo per i cittadini, tra di noi, tra le persone che abitano a questo luogo, ma l'amore soprattutto per il territorio. Il territorio che secondo noi è sempre da celebrare, infatti notiamo sempre all'interno le icone che rappresentano il city brand di Gabice Mare, con le ginestre, la riviera che si vede da Gabice Monte, l'orizzonte, questi sono gli elementi che quest'anno vogliamo donare non solo alle persone che abitano qui, ma anche ai territori limitrofi, come se fosse un dono d'amore verso gli altri. Questo Natale per noi è un augurio di cuore. Grazie a tutti.